Io mi chiamo G. Io mi chiamo G. No, non hai capito, sono io che mi chiamo G. Sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Vabbè, allora il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è sano, forte e intelligente. Il mio è debole, malaticcio, è un po' scemo. La mia mamma è molto bella, assomiglia a Brigitte Bardot. La mia mamma è brutta, mia mamma assomiglia. La mia mamma non assomiglia. Il mio papà è molto ricco, guadagna 31 milioni di euro al mese. Che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa un milione di euro al giorno. Il mio papà guadagna 10 euro al giorno. Che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10 euro al giorno. Il primo giorno, poi basta. Il mio papà un giorno mi ha portato su una collina e mi ha detto, guarda, un giorno tutto questo sarà tuo. Anche il mio papà mi ha portato sulla collina un giorno e mi ha detto, guarda, basta. Ah, poi ha aggiunto, mi raccomando, il 7 di ottobre alle 21, al Teatro Nuovo di Cannobio, che ne pensi Giorgio, con Michael Trotta e Sergio Cagnati. Michael Trotta sono io o tu? Tu sei Michael Trotta. Ah, io Michael Trotta. No, aspetta, io sono Sergio Trotta. No, tu sei Michael Trotta. Sergio Trotta e Michael Cagnati. Insomma, ci siamo noi. Sabato, il 7 ottobre. Grazie. 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 Grazie.